Rilievi ambientali su una discarica abusiva segnalata in località Magazzeno, ad effettuarli gli uomini della Polizia Provinciale, che con l'ausilio dei tecnici comunali hanno constatato la presenza di Ethernet e di altro materiale pericoloso. Nei prossimi giorni, dopo il verbale redatto dagli uomini della Provinciale, sarà emessa un'ordinanza per disporre la rimozione dei rifiuti in questione. Sul territorio intanto cominciano ad arrivare le prime multe per il conferimento errato dell'immondizia. L'ultimo caso in ordine di tempo è avvenuto ieri, quando gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato una persona residente a Ponte Gagnano che aveva gettato dei sacchi neri contenenti rifiuti non differenziati.